Per la prima volta nella sua storia la città di Pescara ha la bandiera blu. Sindaco, un grande riconoscimento, una grande soddisfazione. Sì, veramente la gioia è infinita perché abbiamo ottenuto un risultato storico e un risultato che premia la città di Pescara, una città che noi abbiamo sempre pensato fosse da bandiera blu, nessuno aveva mai fatto la domanda, l'abbiamo proposta a dicembre, quando due anni fa abbiamo lanciato questa idea della bandiera blu, nessuno ci credeva e invece evidentemente Pescara ha i numeri per ottenerla tant'è che oggi è stata insignita di questo riconoscimento importantissimo che è un riconoscimento internazionale che viene dalla Fondazione per la ecosostenibilità ambientale perché Pescara è una città che noi sosteniamo non essere soltanto una città di mare ma è una città che vive con il mare, vive sul mare. E un'altra considerazione importante, Pescara è l'unica città a tutto tondo che ottiene la bandiera blu in Italia perché Pescara non è soltanto una città turistica, è una città e era quasi impossibile che l'ottenesse invece i numeri c'erano, le condizioni c'erano, noi l'abbiamo sempre pensato e oggi ci prendiamo questa grandissima soddisfazione. Pescara, bandiera blu per la prima volta nella sua storia. Cosa significa avere la bandiera blu nella stagione estiva che dovrà segnare il rilancio, la ripartenza a livello turistico non solo di Pescara? Significa una carta di credito, non indifferente, la carta di credito che già la ConfCommercio sta mettendo in piedi, una carta che consente ai propri clienti, ai bagnanti e ai turisti di girare tra i musei, tra i negozi, di cercare di trovare le soluzioni e sarà una carta tuttamente blu. Ma dico di più, la carta indestata, metteremo subito in cantiere, stavamo aspettando una notizia perché è pronta una macchina per mettere in risalto tutto quello che è la città di Pescara. Il concorso tra le vetrine, le vetrine di Pescara saranno addobbate con la bandiera blu, poi un appello rivolto a tutti i proprietari dei negozi che oggi sfitti, allora chiediamo un supporto, ci metteremo a fianco al tavolo e insieme a loro, coinvolgeremo le scuole del Misticone e l'Istituto d'Arte di Pescara perché dobbiamo dare a quelle vetrine brutte un senso. Una vetrina si è chiusa ma deve sembrare che sta all'aperto. Questo vogliamo realizzare, togliere quelle brutture. Le brutture le togliamo perché oggi la bandiera blu ci dà questa carta di credito.